C'è chi le rifiuta. Come reagiamo alle parole dei maestri immateriali? Guida. Ognuno di voi reagisce al filtro della sua evoluzione. C'è chi le rifiuta, c'è chi le ascolta ma non le comprende, c'è chi è pronto a comprenderle e su queste parole riesce a vedere la vita in maniera diversa. Per questi noi continuiamo a parlare anche per quelli che non vogliono nemmeno ascoltare. Per questi ultimi le nostre parole resteranno comunque nel loro intimo e verrà sempre il momento, se non in questa vita in un'altra, in cui l'eco delle nostre parole entrerà nella loro coscienza e gli permetterà la comprensione che a suo tempo non avevano raggiunto. Grazie a tutti.